Buongiorno a tutti e a tutte, miei cari fratelli e sorelle della Chiesa e un buongiorno a tutte le persone che ci accompagnano in questo momento, che staranno con noi in tutto il mondo, in Sud America, Centro America, Nord America, in Europa, nelle isole, Islanda, dove c'è la Chiesa del Signore. Un saluto a tutti i fratelli dell'Islanda, in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Africa, miei cari fratelli dell'Africa che mi avete scritto, mi avete scritto, mi avete inviato delle fotografie dove voi state lodando e cantando a Dio, pregando a Lui. Tutti siamo uno in Gesù Cristo, siamo un solo cuore per Dio, che bello, e tutto questo ci riempie di emozioni quando ci scrivono da così lontano, mi inviando le fotografie, che belli che sono i vostri cuori, che gioiscono di allegria per il Dio, dalla felicità di cercare il Signore. Non importa la razza, il colore, la lingua, Dio si manifesta in ogni cuore, in ogni vita. Così, un saluto per tutti voi. Non posso elencare paese per paese, nomi nei continenti. Quindi, un saluto a tutti voi, miei cari fratelli e sorelle. Non crediate che io vi ho dimenticato, no. Tutti i giorni voi siete nelle mie preghiere, anche coloro che vivono nei paesi più remoti. Le mie preghiere sono per tutte voi. Perciò bisogna andare avanti. E anche le persone che si connettano oggi per la prima volta, per le persone recenti, anche voi gioirete col Signore. Gioirete della stessa gioia che noi viviamo, lodando Dio, leggendo la Bibbia e cantando a Dio, disponendo il nostro cuore, per gradirlo, per onorarlo, perché Lui si merita tutto. Un giorno di questi, Dio toglierà la tribulazione che noi stiamo vivendo. Lui la toglierà. Nel momento meno pensato, Lui compirà la Sua opera, farà questo miracolo, perché questa è la Sua volontà. Adesso ringraziamo il Signore, dandogli l'onore e la gloria. E potete sedervi nel frattempo, potete accomunarvi nelle vostre case, ovunque vi troviate. Ci sono posti dove ci sono fratelli e sorelle che vivono nella campagna, anche nella selva. E lì non c'è il segnale internet. E loro camminano per due ore per arrivare ad un paese specifico, dove ci sono dei segnali. E lì magari si mettono anche sotto un albero e ascoltano l'insegnamento col telefono. E noi ringraziamo il Signore. Io mi immagino Dio come sarà contento di loro. Quando vedo un uomo e una donna che si sforzano, si sacrificano per cercare e lodare il suo nome. Sarà contento. Adesso cantiamo, prima di iniziare l'insegnamento di oggi, cantiamo l'inno numero 181. Inno 181. Non so se anche nel vostro, sì, numero 181 è che come io vi ho detto, ho un libro dei canti diverse con il numero di pagine, note e a volte vario i numeri. Si intitola Bell'amore. Bell'amore che è quello di Dio. Quindi adesso cantiamo al Signore con il nostro cuore. wenn I Willis quando Gesù mi alto riuscita con il nostro cuore. Quando Gesù me levantò per suo amor su grande amor a mi me salvo su Su grande amor me libertò En una cruz mi Jesús sufrió Por ese amor que tiene para mí En una cruz mi Salvador vino a morir Por un malvado como yo sangre vertió Por ese amor que en mí mostró Gloria al Señor Soy un cautivo en libertad Por su amor Su grande amor a mí me salvó Su grande amor me libertò En una cruz mi Jesús sufrió Por ese amor que tiene para mí Jesús mi Salvador mi Rey me prometió Una mansión en tu estaré Siempre con él Allí tristeza son dolor jamás tendré Esa mansión me preparó Por su amor Su grande amor a mí me salvó Su grande amor me libertò En una cruz mi Jesús sufrió Por ese amor que tiene para mí Bendito el Señor Bendito el Señor Gloria y honor a Dios En un corazón Lo odiam el Señor Con todo el nuestro cuore Con toda la nuestra anima Y por hoy Miei cari fratelli e sorelle anche a tutti gli ascoltatori, gli spettatori di questo momento e coloro che poi successivamente avranno l'opportunità di vedere l'insegnamento, oggi parleremo di una frase che è narrata sempre nella Bibbia e che dice «salvati tramite la grazia». Questa frase la troviamo spesso nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, per esempio, dice «salvati per mezzo della grazia». Ci sono anche tanti ignecore che cantiamo che parlano della grazia. Dobbiamo tenere in considerazione che la grazia non è come dire grazie, rendere grazie, no, è qualcosa di diverso. Quindi non dobbiamo confondere rendere grazie con la grazia. Quando dice «salvati per grazia» o «salvati per mezzo della grazia», siamo salvati per mezzo della grazia di Dio. E oggi analizzeremo questa bella parola. Cosa significa grazia? Affinché quando noi la nominiamo nella Bibbia la cantiamo, sappiamo di cosa si tratta e poi la canteremo con il cuore, con coscienza e chiederemo a Dio questa grazia. Chi è che ha la grazia? E chi la terrà? Vediamo questa grazia. A chi appartiene? Se sono i credenti o se appartiene a Dio? O ambi, sì, ambe due. Questo lo analizzeremo oggi. E come vi ho detto, non dobbiamo confonderla con la gratitudine. Magari quando qualcuno ci fa un regalo, un favore e noi diciamo grazie perché stiamo ringraziando. Facciamo un gesto di gratitudine. Siccome tu mi hai regalato questo o mi hai fatto un favore, allora io ti rendo grazie. Ti ringrazio, sono grato, grata con te. Ma è diverso dalla grazia che vedremo oggi. Salvati per mezzo della grazia, la grazia del Signore Gesù Cristo, che è con tutti, dice la Bibbia. E oggi vedremo che cos'è la grazia, affinché noi la possiamo chiedere nella nostra preghiera a Dio. Vediamo cosa significa quindi questa parola tabella. Il primo significato di grazia è amore. Amore nella sua totalità. L'amore di Dio. Dice che Dio ha avuto amore per le anime, per la gente. E Dio, nel suo infinito amore, nella sua infinita misericordia, ha voluto salvare l'umanità. Tenendo in considerazione la legge di Mosè, perché fu lui a dare a Mosè la legge, affinché il popolo di Israele la compisse dall'A alla Z, letteralmente. E così, così, compiendo la legge di Mosè, si sarebbero potuti salvare. Ma nessuno riuscì, anzi, al contrario, tutti pecarono. E pecarono sempre di più. Quindi Dio, nel suo amore e nella sua misericordia, vuole comunque salvare le anime, gli esseri umani. Quindi ebbe amore, compassione, ebbe bontà, compatì le sue anime, gli esseri che lui aveva creato. E vuole fare un favore all'umanità, cioè salvarla e darle la vita eterna. Ma in cambio di cosa? E lo vedremo, vedremo anche questo. Quindi la grazia è amore. Ma nella Bibbia noi vediamo che Dio ebbe e ha amore, ma vuole che anche noi abbiamo amore verso di Lui. Dio ha avuto generosità e bontà verso le sue creature e anche Lui vuole che noi siamo buoni, benevoli. Dio ha avuto misericordia e Lui vuole che noi abbiamo misericordia. Dio ha compassione per coloro che soffrono e vuole che anche noi abbiamo compassione per coloro che soffrono. Così, in questo modo, noi svilupperemo il tema della grazia e vedremo che se Dio ha grazia, vuole che anche noi abbiamo la grazia. E adesso iniziamo a leggere nel libro di Genesi. Genesi, capitolo 39, verso 21. Rapidamente, cerchiamo nella Bibbia. Mi piace che tutti leggiate, così anche voi potete capire meglio. Si capisce a volte meglio leggendo che ascoltando. Certo, per coloro che possono leggere. Genesi 39, verso 21. Qui troviamo un personaggio al quale Dio diede grazia. Si chiamava Giuseppe. Quando stette in Egitto, Giuseppe fu venduto da suoi fratelli. Lui era figlio di Giacobbe. Giacobbe ebbe 12 figli. E suo figlio Giuseppe era il suo figlio prediletto, preferito. Ma i suoi fratelli per invidia lo vendettero dei mercanti in Egitto. Quindi Giuseppe fu schiavo in Egitto, fu servo degli egiziani. Era in carcere. In quel momento, quando leggiamo il verso 21, Giuseppe era in carcere. Ma Dio, nel verso 21, dice, ma l'Eterno fu con Giuseppe. Non dimentichiamoci, per le persone recenti, non dimenticate che a volte in alcune Bibbie c'è scritto Geova, ma Geova, specialmente in spagnolo, una parola ebrea, in ebreo antico. E in ebreo antico era scritto senza le vocali. Quindi non si poteva pronunciare. Cosa fecero gli spagnoli? Aggiunsero la E, la O, la, per leggere Geova. Ma in realtà si dice Dio, Padre Celeste, l'Eterno, come è scritto qui nella Bibbia in italiano. 21. Ma l'Eterno fu con Giuseppe. Giuseppe era servo, in carcere, prigioniero, in Egitto. Ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, cattivandogli le grazie del direttore della prigione. Qui dice che Dio, l'Eterno, siccome la grazia appartiene a Dio, la benevolenza appartiene a Dio, la compassione appartiene a Dio. Dio, infatti, è tutte queste cose, è amore, è bontà. Perciò Dio diede a Giuseppe la grazia, la dimostrazione che lui aveva queste qualità. L'Eterno, al quale appartenevano tutte quelle virtù, le consegnò a Giuseppe. E il direttore della prigione vide di buon occhio Giuseppe, come quando noi diciamo oggi, quella persona mi piace. Non so che cos'ha quella persona, però c'è qualcosa in lei che mi piace. E questo successe al direttore della prigione, dove stava Giuseppe, prigioniero. Era perché Dio aveva dato grazie a Giuseppe. Cioè, il direttore della prigione vide in Giuseppe un uomo compassionevole, un uomo pieno di amore, pieno di qualità. Ricordiamoci che amore significa non commettere peccato e avere tutte le virtù, le qualità che esistono, tutte le virtù, i frutti dello Spirito Santo, le qualità di Dio. E tutte queste qualità devono essere ad appannaggio di una persona. E se una persona ha tutte queste qualità, significa che ha amore. Proprio come Dio, perché Dio ha amore. perché ha tutte le qualità, le virtù, i frutti. Lui ha tutto di questo. Quindi, il direttore della prigione vide in Giuseppe tutte queste qualità. Vide che lui, Giuseppe, era un buon uomo, una buona persona. Era un buon giovane, che aveva virtù, amore, misericordia. Aveva compassione. Era docile, era amorevole. E vide tutte queste qualità in Giuseppe. E significa che Giuseppe, pertanto, ebbe grazia di fronte agli occhi del direttore della prigione. Ma questa grazia fu data da Dio a Giuseppe. Affinché quella grazia potesse riflettere in Giuseppe e, di conseguenza, negli occhi del direttore della prigione. Oggi, nella misura in cui leggeremo, vedremo che Dio desidera che anche noi otteniamo la grazia, che abbiamo questa grazia. E, così, avendo grazia, riusciamo ad avere, principalmente davanti a Dio, grazia, ma anche davanti alle altre persone. possiamo dire, Signore, dammi la Tua grazia affinché Tu mi possa vedere di buon occhio e, di conseguenza, anche gli altri mi possano vedere di buon occhio. E così io non sia una persona malvagia. Bene, adesso passiamo al Libro dei Numeri. Dopo Genesi c'è Esodo, Levitico, e poi troviamo Numeri. Numeri, capitolo 11, verso 11. Stiamo parlando della grazia. Qui si parla di un altro personaggio, di Mosè. qui Mosè era arrabbiato, era nel deserto, stava pascendo gli israeliti che li aveva fatti uscire dall'Egitto. Il popolo di Israele, infatti, era schiavo in Egitto, Mosè li fa uscire, ma il popolo continuava a mormorare, dicendoci, ha portato qui nel deserto a morire di fame? E Mosè era contrariato con il loro comportamento, era un po' deluso di vedere la durezza del cuore del popolo di Israele. Ma Dio aveva già procurato loro la manna, ma adesso volevano mangiare la carne perché si erano stancati di mangiare la manna. e la manna era un seme con la quale si preparava sì, la farina per fare delle torte, delle zuppe, come si chiamano oggi, delle polpette. Quindi tutto si faceva con la manna che veniva convertita per fare tanti cibi svariati, sempre con lo stesso ingrediente, ma il popolo era stanco di mangiare la manna e quindi dissero a Mosè noi vogliamo mangiare la carne. Allora Dio disse a Mosè sì, invierò anche la carne. E nel verso 10 dice Or Mosè uldì il popolo che impiagnucolava in tutte le loro famiglie. Il popolo infatti era impaziente. Ognuno all'ingresso della propria tenda e l'ira dell'Eterno divampò grandemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Allora Mosè disse all'Eterno perché hai trattato così male il tuo servo? Sta dicendo Mosè al Signore Tu perché mi hai fatto del male? Perché mi hai fatto così male? Mi hai dato l'ordine di far uscire il popolo dall'Egitto? Adesso gli ho fatti uscire ma loro dicono che stanno morendo di fame e di sete. Perché, Signore? Perché non ho io trovato grazia ai tuoi occhi? Quindi Mosè sta reclamando al Signore e gli sta chiedendo perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi affinché potessi fare le cose in modo perfetto come tu mi avevi detto. Infatti Mosè aveva capito che sarebbe stato tutto perfetto. Lui avrebbe fatto uscire il popolo dall'Egitto, l'avrebbe portato attraverso il deserto per arrivare alla terra di Canaan dove scorrevano latte e miele. Quindi un paese pieno di abbondanza. Ma adesso Mosè vede che sono nel deserto e mancano di cibo, mancano d'acqua e quindi Mosè si irrita perché il popolo a sua volta era contro Mosè. E quindi Mosè dice al Signore perché? Perché mi stai facendo del male? Perché hai fatto del male al tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai tuoi occhi? Da porre il peso di tutto questo popolo su di me Mosè voleva che la grazia di Dio cioè l'amore di Dio, la misericordia di Dio la compassione di Dio l'abbondanza, la bontà di Dio fossero manifestate in Mosè e che di conseguenza lui avesse tutte queste cose per avere successo con il popolo di Israele e non doversi invece arrabbiare col popolo per arrabbiarsi col Signore e dirgli perché mi hai abbandonato. Mosè non voleva offendere Dio non voleva sbagliare voleva essere perfetto non voleva essere arrabbiato, irato né tantomeno presentarsi così davanti al Signore ma il popolo, diceva Mosè mi fa arrabbiare, mi fa peccare perché tu, Signore, non mi hai dato la tua grazia non ho trovato grazia ai tuoi occhi ecco perché sto vivendo questa situazione quindi qui vediamo come Mosè chiede al Signore la grazia che gli dia grazia per non soffrire più in questo modo con il popolo nel deserto passiamo nel Salmo 45 i Salmi si trovano più o meno a metà della Bibbia Salmo 45 verso 2 stiamo parlando della grazia la grazia che è quella che noi leggiamo soprattutto nel Nuovo Testamento la grazia di Dio che per mezzo della grazia sono salvato che viviamo grazie appunto alla grazia viviamo per mezzo della grazia non per mezzo della legge di Mosè la grazia che Dio diede quindi stiamo analizzando per poter capire questo tema questa bella parola la grazia la grazia di Dio Salmo 45 verso 2 anzi verso 1 dice mi sgorgono dal cuore parole soavi io canto il mio poema al re la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore in quel momento il re Davide stava profetizzando lui era solito essere preso dallo Spirito Santo cominciava a profetizzare qualcuno vicino a lui doveva scrivere immediatamente le profezie di Davide che a volte erano parlate a volte cantate e le scrivevano infatti diceva la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore sta profetizzando sta esprimendo tante belle cose rivolte a Dio dice che dal mio cuore escono parole soavi cosa vuol dire cosa aveva in sé Davide sicuramente aveva in sé grazia verso 2 tu sei più bello di tutti i figli degli uomini riferendosi al nostro Signore Gesù Cristo al Messia riferendosi al Salvatore al Re tu sei più bello di tutti i figli degli uomini sulle tue labbra è stata sparsa la grazia la grazia Gesù Cristo aveva così tanta grazia che quando Lui parlava dalla Sua bocca uscivano le qualità le virtù di quella grazia di quello che Lui aveva in sé e usciva usciva da Lui tramite le Sue parole e dice perciò Dio ti ha benedetto in eterno perché la grazia si è sparsa dalle tue labbra quando tu predicasti quando tu insegnasti il Vangelo quando apristi la tua bocca per insegnare il Regno dei Cieli tutti gli uomini le donne ti ascoltavano credevano in te eccetto i ribelli gli stolti gli empi ma il resto delle persone credeva in te erano liberati liberati perché ricevevano da parte tua la grazia il potere le virtù le qualità tu avevi il dono di liberare le persone solamente con il tuo parlare la grazia si è sparsa dalle tue labbra il Signore Gesù Cristo aveva tutte queste qualità queste virtù che uscivano da Lui causando la pelle d'oca come dice un detto e le persone infatti erano liberate guarite ricevevano miracoli segnali prodigi grazie appunto alla grazia del Signore che si è sparsa sulle labbra del Signore Gesù Cristo adesso passiamo al libro di Daniele capitolo 1 verso 9 stiamo parlando della grazia e contemporaneamente vediamo quali personaggi hanno goduto di quella grazia e alla fine vedremo anche quali altri personaggi godranno della grazia Daniele capitolo 1 verso 9 Daniele si trova dopo i salmi dopo i salmi appunto ci sono gli altri profeti poi Ezechiele poi Daniele spero che abbiate già trovato il libro di Daniele affinché anche voi possiate leggere e Daniele fu un libro scritto a Babilonia perché Daniele fu portato schiavo a Babilonia Daniele era un principe ma da Gerusalemme fu portato a Babilonia insieme ad altre persone e furono portati i prigionieri a Babilonia per mano del re Nabucandestar ed erano lì schiavi in Babilonia ma Dio volle dare una benedizione speciale a Daniele affinché lui non fosse trattato come qualsiasi altro personaggio vivendo schiavo nella città di Babilonia Daniele inoltre decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re perché il re comandò di portare al palazzo giovani i giovani che erano prigionieri provenienti da Gerusalemme e il re disse portatemi dei giovani che possano servire qui al palazzo e Daniele insieme ai suoi amici finì nel palazzo del re ma Daniele siccome era giudeo doveva praticare la legge di Mosè e la legge di Mosè proibiva mangiare gli animali impuri come il maiale inoltre proibiva anche di bere alcune bevande e Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi del palazzo del re perché in quel palazzo in Babilonia vivevano persone pagane non erano giudei non avevano la parola di Dio in loro quindi loro mangiavano animali impuri preparavano sì animali impuri tutti i cibi erano impuri le salse le bevande e Daniele disse io non mi voglio contaminare voglio gradire Dio e la cosa più conveniente per me è mangiare dei legumi perché i legumi non sono cucinati insieme alla carne con nessuna salsa i legumi si cucinano da soli quindi Daniele disse mangerò solo i legumi e così fece e a Dio piacque questo gesto di Daniele di non offenderlo appunto e di non mangiare né bere cose contaminate verso 8 infatti dice ma Daniele deciso in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino perché anche in alcuni vini mettevano del sangue e altre cose quindi sapendo questo Daniele disse non berrò nemmeno il vino e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi Dio nel verso 9 Dio fece trovare a Daniele grazia e misericordia presso il capo degli eunuchi quando infatti il capo degli eunuchi parlò con Daniele e Daniele espresse la sua richiesta cioè di non contaminarsi con il cibo del re a causa degli animali impuri Daniele ebbe così tanta grazia di fronte al capo degli eunuchi che accettò la sua richiesta perché perché il capo degli eunuchi vede in Daniele un uomo pieno di virtù qualità pieno di amore onestà sincerità vide in Daniele misericordia amore compassione bontà benevolenza ecco il capo degli eunuchi vede tutte queste qualità in Daniele e disse questo giovane mi piace mi piace proprio questo giovane e siccome mi piace allora accetterò la sua richiesta perché io vedo lui tante qualità e virtù ubbidirò alla richiesta di Daniele lui mi chiede solamente di mangiare i legumi e io gli darò i legumi perché perché cadde nelle grazie del capo degli eunuchi che bella la grazia io credo che già ci stiamo innamorando di più della grazia adesso passiamo al libro di Zaccaria Zaccaria si trova prima di Matteo nel Nuovo Testamento troviamo a Geo Zaccaria Malachia tutti prima del Nuovo Testamento prima di Matteo Zaccaria capitolo 11 Zaccaria 11 vediamo quale personaggio trovò grazia vediamo quello che è successo in Zaccaria capitolo 11 verso 7 verso 7 di Zaccaria 11 questa è una profezia che Zaccaria infatti fu un profeta che esistette dopo che il popolo di Israele uscì da Babilonia per ritornare a Gerusalemme nuovamente Daniele e gli altri stettero per 70 anni a Babilonia dopo ritornarono nuovamente a Gerusalemme e in questo momento in Zaccaria ci troviamo appunto dal ritorno da Babilonia e Zaccaria è usato da Dio per profetizzare il popolo che era tornato a Gerusalemme e anche il resto del popolo che era rimasto lì ma Dio era molto arrabbiato con il popolo di Israele soprattutto con i pastori cioè con i sacerdoti con i governanti i principi i re i giudici tutti coloro che furono lì nel popolo di Israele che comandavano il resto della nazione e Dio era molto arrabbiato e li chiamò pastori inutili perciò Zaccaria 11 sta parlando di questo è una profezia per il futuro e quindi il Signore disse sono stati tutti pastori inutili perché guarda cosa hanno fatto ma vedremo cosa succederà in futuro quando apparirà il Messia il Salvatore quindi nel capitolo 11 è tutta una profezia e nel verso 10 disse presi quindi il mio bastone grazia e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli Dio aveva fatto un patto sul Sinai con Mosè circa il popolo di Israele ma siccome il popolo sbagliò nei confronti di Dio allora Dio ruppe questo patto a Gerusalemme e Gerusalemme fu distrutta e il gruppo di Supestiti fu portato a Babilonia e tra questi gruppi c'era appunto Daniele che rimasero lì 70 anni a Babilonia per poi ritornare a Gerusalemme quindi il Signore qui ruppe il bastone grazia perché stava parlando a un pastore stava parlando appunto di tutta la corruzione tra i pastori e quindi il Signore con questi due bastoni uno la grazia che era il Vangelo del Signore Gesù Cristo e l'altro i legami che fu la legge di Mosè che invece di salvare le persone li fece peccare ancora di più ecco quindi questi due bastoni furono usati dal Signore Gesù Cristo e il Signore siccome era arrabbiato stava dando questa profezia e disse nel verso 8 in un mese eliminai tre pastori io ero impaziente con loro dice Dio ed essi pure mi detestavano allora dissi non vi pascerò più perché? perché non fecero la volontà di Dio non vi pascerò più chi sta per morire muoia e chi sta per perire perisca quelle poi che rimangono si divorino a vicenda quindi Dio lasciò sole queste pecore senza pastore dice non vi lascerò più i pastori nei profeti per parlarvi perché voi siete ribelli non accettate allora che soffrite e Dio infatti li lasciò soffrire per 430 anni dopo Zaccaria dopo che ritornarono appunto in Gerusalemme ricostruirono il Tempio con Zorovabele Salatiele passarono quindi 430 anni dal ritorno d'Egitto a Gerusalemme e Dio non inviò più profeti non diede più loro profezia visioni per 430 anni Dio si dimenticò di loro per 430 anni fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo e quindi qui dice chi sta per morire che muoia chi sta per perire perisca e chi rimane si divori a vicenda e quando il Signore Gesù Cristo apparve vide che nessuno stava compiendo la volontà di Dio tutti erano smarriti e nessuno stava facendo la volontà del Signore questa profezia si compì a suo tempo e nel verso 10 dice presi quindi il mio bastone grazie e lo spezzai per annullare il patto che avevo stabilito con tutti i popoli in quello stesso giorno fu annullato così le pecore più misere del gregge cioè i poveri in spirito gli umili che avrebbero ricevuto avrebbero accettato il Vangelo del Signore Gesù Cristo quando Gesù Cristo appunto sarebbe arrivato disse così le pecore più misere del gregge che mi osservavano riconobbero che quella era la parola dell'Eterno quando appunto videro Gesù Cristo sulla terra retrocediamo un attimo nel verso 7 dice allora mi misi a pascere le pecore destinate al macello questi erano i poveri non i poveri in denaro ma gli umili i semplici quelli che disposero il cuore per il Signore coloro che aspettavano Dio perché per 430 anni nei quali Dio non si manifestò ci furono comunque persone che speravano in Dio che pregavano che acclamavano e dicevano Signore abbi misericordia di noi invia ancora profeti le tue manifestazioni come facevi prima allora il Signore dice qua allora mi misi a pascere le pecore destinate al macello precisamente le più misere del gregge presi quindi per me due bastoni uno lo chiamai grazia e l'altro legami la grazia era il Vangelo Vangelo che sarebbe arrivato tramite Gesù Cristo e il bastone legami era la legge di Mosè che fu un inciampo nella vita di spirituale di tutti gli uomini e le donne perché nessuno riesce a compirla quindi nessuno fece la volontà di Dio quindi il bastone grazia si riferiva al Vangelo del Signore Gesù Cristo che sarebbe arrivato e avrebbe predicato alle anime perché perché Gesù Cristo era ripieno di grazia e con questa grazia lui venne a salvare le persone perché perché in lui c'era amore misericordia perché in lui c'era compassione benevolenza bontà c'era tutto questo ecco perché lui avrebbe salvato le anime tramite la grazia in questo modo col Vangelo come quando Gesù Cristo disse chi ha sete venga beva della mia acqua quest'acqua sono io bevete gratis gratuitamente non dovete pagare niente perché quello che io vi do è gratuito non dovete pagare nulla solamente la grazia di Dio e la grazia che Dio pone in ogni essere umano è l'unica cosa l'unica cosa per la quale valga la pena che ha valore perché la grazia significa amore amore nella sua pienezza che significa non praticare il peccato chi non pratica peccato si dice che ha amore il misericordioso il compassionevole il benevolo questa persona è ripiena della grazia di Dio Dio dà la sua grazia a questa persona è questa la grazia che Dio concede a tutti coloro che credono in Lui lui insegnò il suo Vangelo dicendo credete in me perché io sono il cammino io sono il figlio di Dio io sono Dio con voi credete e io vi darò la mia grazia della grazia che io ho anche a voi ne avrete sarete salvati e tutto sarà dato gratuitamente non dovete pagare quindi che meravigliosa è questa grazia la grazia che Dio diede all'umanità per essere salvata non era più tramite la legge di Mosè non era tramite questo bastone legami non era per il bastone legami ma tramite il bastone grazia i bastoni fisicamente sono degli strumenti che usano nel campo in campagna con i buoi quando stanno arando la terra stanno arando la terra allora usano questi bastoni per solcare la terra fare dei solchi aprono la terra per seminare per gettare i semi quindi il Signore parlava tramite delle figure affinché le persone comprendessero di più gli esempi quindi lui prese questi due bastoni uno lo chiamò grazia e l'altro legami questo è quello che Dio fece all'inizio con la legge di Mosè usò questo bastone legami poi il Signore dice no userò il bastone grazia con il quale io farò la mia opera la mia chiesa la mia chiesa sarà costruita con questo bastone con la grazia quindi nel verso 7 sta dicendo che aveva preso questi due bastoni grazia e legami legami è la legge di Mosè grazia è il Vangelo del Signore Gesù Cristo perché colui che crede nel Vangelo di Gesù Cristo significa credere in Gesù Cristo come il Figlio di Dio come lo stesso Dio il Salvatore l'unico cammino l'unica verità che porta alla vita eterna allora cos'è che dà a quella persona che crede dà grazia amore cioè quest'uomo e questa donna vengono trasformati in un cuore nuovo per non peccare più diventa un uomo nuovo una donna nuova rinasce spiritualmente smettono così di peccare e di avere misericordia cominciano ad avere appunto misericordia bontà tutte le virtù e tutte le qualità quindi si dice che quell'uomo e quella donna hanno grazia e anche Dio dirà così hanno ottenuto la mia grazia e noi desideriamo questa grazia e noi inseguiamo questa grazia per arrivare alla vita eterna vedete la gente dirà ma ci sono tanti cammini per arrivare alla vita eterna no no perché noi parliamo di un solo cammino ce n'è un c'è un solo cammino e questo cammino è percorso dalle persone giuste dalle persone oneste responsabili organizzate equi quindi vedete la grazia è la stessa cosa la grazia è amore misericordia e che cos'è l'amore la stessa cosa non peccare essere giusti retti equi non ci sono tanti cammini solamente che ci sono tanti nomi forse Dio per adornare tutte le benedizioni che Dio ha per l'essere umano quindi dà tanti nomi per far sì che l'essere umano si possa dilettare in tanti nomi nella rettitudine nella giustizia nell'acqua della vita nel pane della vita che è il Signore Gesù Cristo il Signore Gesù che è il cammino che è la verità tutti questi sono nomi ma portano ad un solo cammino al Signore certo noi impariamo ogni termine ne scopriamo il significato e nella misura in cui noi leggiamo la Bibbia comprendiamo meglio se sappiamo il significato di questi nomi e noi possiamo chiedere al Signore tutte queste cose per essere liberi liberi dall'oppressione dalla schiavitù del diavolo dalla schiavitù del peccato perciò è molto importante imparare il significato di tutti questi termini che il Signore usa tutte queste belle parole che troviamo nella Bibbia perché per esempio la parola grazia la troviamo diverse volte nel Nuovo Testamento e a volte non capivamo che a volte siamo salvati tramite la grazia adesso sappiamo che la grazia proviene da Dio e sicuramente il Signore ha già posto la sua grazia sui suoi figli sui suoi seguaci perché perché la grazia distingue i figli di Dio a coloro che non hanno Dio la grazia è un segno di distinzione è un distintivo tra i figli di Dio e coloro che non seguono Dio adesso leggiamo in Zaccaria capitolo 12 verso 10 ricordiamoci che questa è una profezia per il futuro e il futuro era l'arrivo del Signore Gesù Cristo noi nonostante siano passati più di 2000 anni stiamo vivendo ancora questo futuro stiamo vivendo ancora queste parole profetiche stiamo vivendo ancora il futuro perché Gesù Cristo lo ha iniziato 2000 anni fa e noi lo stiamo vivendo e nel verso 10 dice riverserò sulla casa di Davide significa che Gesù Cristo quando nacque fisicamente proveniva dalla discendenza di Davide anche se erano passati migliaia di anni tuttavia Gesù Cristo proviene dalla casa di Davide dalla sua discendenza e dice riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione cioè su tutti coloro che stavano vivendo col Signore Gesù Cristo in quell'epoca se noi abbiamo detto che cosa significa gli abitanti di Gerusalemme il Signore sta parlando dei seguaci del Signore Gesù Cristo non tanto gli abitanti fisici di Gerusalemme di un popolo che sta vivendo in quell'epoca dobbiamo tenere in considerazione che quando Gesù Cristo stava predicando in Gerusalemme non gli credettero anzi lo perseguitavano per condannarlo a morte quindi gli abitanti di Gerusalemme non meritavano la benedizione di Dio gli unici che meritavano la benedizione erano i Suoi seguaci coloro che credettero in Lui e coloro che avrebbero creduto in futuro loro sono i veri abitanti di Gerusalemme in termini simbolici o spirituali ecco perché ripeto riverserò sulla casa di Davide sugli abitanti di Gerusalemme non quelli che peccarono ma a livello simbolico coloro che hanno creduto in Lui riverserò lo spirito di grazia e di supplicazioni quindi qui dice Signore io spargerò questo lo spirito di grazia e di supplicazione perché non disse riverserò spirito di giustizia o di mansuetudine dice spirito di grazia perché perché la grazia appartiene a Dio e Dio volle trasmetterla ai suoi seguaci affinché anch'essi potessero brillare con le loro virtù con le loro qualità con i loro fatti con le loro opere con i loro frutti che avrebbero dato da portare appunto alla presenza di Dio ecco perché dice riverserò spirito di grazia e di supplicazione e la stava dando agli abitanti di Gerusalemme alla chiesa a livello spirituale ed essi guarderanno a me a colui che hanno trafitto qui Gesù Cristo è già stato crucifisso faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico ecco forse questa profezia non è ancora iniziata perché fino alla metà fino a qui si è compiuto più di duemila anni fa perché Gesù Cristo iniziò a predicare il suo Vangelo ha avuto i suoi credenti i suoi seguaci ma che faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico e saranno grandemente addolorati per lui io penso che questo accadrà quando il Signore verrà dalle nuvole per la sua chiesa tanti lo vedranno e diranno ecco sì è vero lui esiste lui sì che è morto sulla croce è risuscitato il terzo giorno è il figlio di Dio guarda il Salvatore è lì è lì sulle nuvole noi non possiamo salire perché perché non abbiamo creduto in lui non abbiamo voluto credere in lui la parola del Signore continuerà comunque continueranno la sua parola continuerà tramite i suoi successori perché il Signore innalzerà sempre evangelisti predicatori che predicheranno la sua parola in tutto il mondo loro moriranno ma poi ci saranno i loro successori quindi questo verso non si è ancora compiuto in tutta la sua totalità comunque noi stiamo parlando della grazia la grazia spirito di grazia di supplicazione su tutti i credenti e che grazia possiamo chiedere allora al Signore cosa possiamo dirgli noi possiamo desiderare la sua grazia adesso andiamo avanti nel libro di Giovanni Vangelo di Giovanni poco più avanti nel Nuovo Testamento Vangelo di Giovanni capitolo 1 verso 14 Giovanni 1 verso 14 Vangelo di Giovanni leggiamo il verso 14 e il verso 17 qui Giovanni è molto bello si trova tanta dottrina profonda perché qui parla che nel principio era la parola e la parola era presso di Dio e dice nel 14 la parola si è fatta carne cioè Gesù Cristo divenne carne Dio divenne carne e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria qui sta parlando Giovanni Giovanni sta parlando insieme agli altri apostoli dicendo abbiamo contemplato la sua gloria perché Giovanni fu testimone di vedere Gesù Cristo e disse noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre pieno di grazia e di verità pieno di amore quindi pieno di misericordia pieno di bontà di compassione fece tanti favori fece tante opere benevole ecco perché diceva pieno di grazia e di verità quindi che bella la grazia che Dio ha dato al Signore Gesù Cristo e che Dio ne possa dare anche a noi e nel verso 17 anzi 16 e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia cioè da lui dalla pienezza di Dio abbiamo ricevuto grazia sopra grazia 17 poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo gloria al Signore che bello alcune volte abbiamo meditato sulla grazia no perché sicuramente pensavamo che la grazia fosse il gesto di ringraziare ma non è il gesto di ringraziare non è il fatto di essere grati no è diverso non significano la stessa cosa grazie e grazie quindi questa grazia di Dio è la misericordia di Dio che lui ebbe con l'umanità per salvare l'umanità lui ebbe amore compassione sentì compassione per gli esseri umani e disse li salverò credete in me che io vi salverò diceva ma vi darò la grazia gratuitamente non vi farò pagare nulla questa è la grazia rileggiamo il verso 16 e noi tutti abbiamo ricevuto dalla pienezza di Gesù Cristo grazia sopra grazia poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo gloria al Signore non dimenticatevi quindi che la grazia è amore bontà compassione misericordia favori questo è quello che significa la grazia e proviene da Gesù Cristo mentre la legge di Mosè fu una legge scritta e bisognava compierla dalla A alla Z e colui o con lei che non la compiva erano destituiti dalla gloria di Dio e così successe perché nessuno riuscì a compiere la legge di Mosè e furono tutti destituiti dalla gloria di Dio ma Dio con il suo amore e con la sua misericordia perché lui ha grazia disse no darò un'altra opportunità tramite Gesù Cristo Gesù Cristo è l'opportunità siccome lui ha grazia allora spargerà grazia ai suoi seguaci ecco perché disse sono salvo per mezzo della grazia adesso andiamo agli atti degli apostoli atti degli apostoli capitolo 15 dopo Giovanni troviamo atti degli apostoli capitolo 15 verso 11 vediamo chi trovò grazia atti degli apostoli capitolo 15 e nel verso 10 dice ora dunque qui c'erano gli apostoli erano a Gerusalemme si riunivano lì predicavano facevano segnali miracoli insegnavano le persone c'erano c'erano tante discussioni circa la legge infatti i discepoli erano minacciati perseguitati ma loro sempre insegnavano il Vangelo e la parola del Signore Gesù Cristo e tra tutte le cose che stavano accadendo loro i discepoli si riunivano con gli anziani discutevano sulla legge e sulla grazia e dice nel verso 10 ora dunque perché tentate Dio sta dicendo agli anziani che volevano obbligare le persone che già si erano convertite al Vangelo li obbligavano comunque a compiere la legge di Mosè ma i discepoli e gli apostoli dicevano loro non devono più compiere la legge di Mosè perché la legge di Mosè fu annullata sulla croce del Calvario tant'è che tramite la legge nessuno si è salvato adesso c'è un nuovo modo di salvarsi credere nel Signore Gesù Cristo compiere i Suoi comandamenti e vivere in santità dicevano così i discepoli quindi ora dunque perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco come un gioco che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare cosa significa perché mettete sulle nostre spalle un peso che nemmeno noi né i nostri padri hanno potuto sopportare cioè la legge di Mosè undici ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo e nello stesso modo anche loro saranno salvati noi crediamo che per mezzo della grazia del Signore Gesù Cristo ci salveremo cambiamo parola adesso e diciamo ma noi crediamo di essere salvati mediante l'amore la misericordia la bontà i favori del Signore Gesù Cristo e nello stesso modo anche loro è questa la grazia e infatti qui diceva Giovanni grazia dopo grazia grazia per grazia se il Signore ci dà la grazia a tutti noi uomini e donne cosa succede? che ci ascolteranno in tanti tanti ascolteranno il Vangelo tanti ascolteranno la parola di Dio la dottrina del Signore la predicazione del Vangelo del Signore molti ascolteranno e vedranno i miracoli i segnali che Dio farà quando i Suoi figli le Suoi figlie i Suoi credenti uomini e donne che siano avranno questa grazia allora queste persone faranno il loro lavoro insegneranno tramite predicazioni la parola del Signore terranno sermoni e avranno tanti ascoltatori e questi ascoltatori diranno sai che tu mi piaci ti credo credo quello che mi stai dicendo credo quello che mi stai predicando quello che mi stai insegnando perché vedo che in te c'è grazia in te c'è sincerità amore sei sei una persona onesta piena di autorità anche che difende le cose di Dio si vede come ami Dio allora io ti credo ti credo hai trovato grazia in me io credo mi aggiungo mi aggiungo anch'io e seguirò il cammino di Dio come potete vedere abbiamo bisogno della grazia la grazia di Dio e Lui ce la può dare Lui ce l'ha data per mezzo di Gesù Cristo quando fu sacrificato sulla croce del Calvario per dimostrare la sua grazia e regalarla regalarla ai suoi seguaci a regalarla a tutti coloro che dispongono il loro cuore per accettare il Signore quindi la grazia è da Dio come dice il Salmo che abbiamo letto prima dalla sua bocca è uscita la grazia tanti infatti ammiravano il Signore Gesù Cristo quando Lui apriva la bocca per insegnare per fare miracoli per correggere la grazia brillava in Lui adesso passiamo verso 11 già lo abbiamo letto adesso passiamo al libro dei Romani capitolo 3 verso 24 Romani capitolo 3 verso 24 qui in Romani dice che tutti stavano peccando e nel verso 23 dice poiché tutti hanno peccato cioè coloro che dicevano di compiere la legge di Mosè tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia quindi gratuitamente qui dice mediante la redenzione che è in Cristo Gesù qui possiamo dire sono stati giustificati gratuitamente per mezzo dell'amore misericordia compassione del Signore Gesù Cristo noi stessi siamo stati giustificati gratuitamente solamente per l'amore che Gesù Cristo ebbe per noi senza nulla in cambio gratuitamente siamo stati salvati mediante Gesù Cristo adesso passiamo al capitolo 12 sempre di Romani verso 6 qui l'apostolo Paolo sta parlando ai Romani alla chiesa che era a Roma in quel tempo stava parlando dei loro doveri spirituali e nel verso 6 dice ora avendo noi diversi differenti doni secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo profezia profetizziamo secondo la proporzione della fede qui l'apostolo sta dicendo che il Signore aveva già concesso loro una grazia infatti il Signore ha dato ad ogni uomo ad ogni donna una grazia ad alcuni da di più rispetto ad altri e siccome dà ad alcuni di più non significa che ha più misericordia o più amore verso una persona rispetto di un'altra no è la sua volontà secondo la grazia che lui vuole dare a ciascuno quindi ad alcuni da tanto ad alcuni da poco per esempio ad alcuni dà il dono della profezia e a chi ha dato il dono della profezia allora che profetizzi con questo dono che Dio gli ha dato tramite la grazia di Dio tramite l'amore di Dio tramite la misericordia di Dio noi otteniamo doni otteniamo la sua benevolenza la sua grazia la compassione senza chiederci nulla in cambio senza chiederci di pagare nulla ma semplicemente gratuitamente passiamo in seconda di Corinzi capitolo 12 seconda di Corinzi capitolo 12 verso 9 dice che qui Paolo stava chiedendo al Signore di togliergli una spina che lui aveva sette inoltre affinché non mi superbisca per l'eccellenza delle rivelazioni siccome Paolo aveva tante rivelazioni lui non voleva , essere superbo quindi per non diventare superbo mi è stata data una spina nella carne un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi superbisca infatti Paolo non voleva essere superbo ma non vuole dire quale fosse questa spina 8 a questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me questa spina ma egli cioè il Signore mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza perciò perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me risulta infatti che la debolezza dell'Apostolo Paolo era la persecuzione lo perseguitavano lo lapidavano soffri naufragi fame miseria nudità persecuzioni invidie lui soffrì tante cose l'Apostolo Paolo soffrì di tutte queste cose ed erano le debolezze sue e il Signore infatti gli disse io ti ho dato la mia grazia e questa ti basta questa mia grazia ti basta per essere forte sebbene tu hai questa debolezza di essere perseguitato ma tu sei benevolo hai amore hai compassione quindi il Signore gli dice cos'altro vuoi che ti basti la mia grazia perché il mio potere il potere del Signore si perfeziona nella debolezza infatti quando accade qualcosa di brutto una tribulazione noi acclamiamo il Signore nella nostra debolezza noi lo acclamiamo e Lui ci aiuta se per esempio come Paolo era in pericolo di morte o poteva essere avvelenato e Paolo lo acclamava di non essere contaminato dal veleno nel corpo allora il Signore interveniva quindi il potere di Dio viene risaltato nella debolezza perché se non c'è debolezza non si cerca il Signore nella debolezza noi lo cerchiamo e quindi Lui si glorifica nella nostra debolezza nella debolezza della nostra carne quello che noi non riusciamo a evitare come una malattia per esempio o in quell'epoca ma anche oggi però non come in quell'epoca oggi succede in alcune in alcuni paesi che si dava del veleno a delle persone per ucciderle in quell'epoca nel secolo sedicesimo diciassettesimo diciottesimo ci sono tante storie che raccontano che avvelenavano il re le mogli avvelenavano il re oppure avvelenavano i mariti uccidevano appunto le persone ricorrendo al veleno oggigiorno ci sono altri modi per togliere la vita le persone oggigiorno ci sono i sequestri tolgono la vita con delle armi questa è una debolezza della carne per esempio se riceviamo uno sparo nella nostra carne sicuramente o moriamo all'istante o poco dopo perché questo sparo o per esempio un coltello nel nostro corpo ci rende deboli questa è la nostra debolezza la carne nostra diventa debole per esempio oggigiorno tante persone si sono malate del coronavirus è una debolezza nel nostro corpo quindi abbiamo questa debolezza tramite questa malattia e questa malattia ha tolto la vita a tante persone questa è la debolezza di cui parla qui e l'apostolo Paolo aveva una spina nella carne quindi aveva una debolezza e lui pregava tanto il Signore per farsi togliere questa spina e questa spina era una debolezza e questa debolezza erano appunto tutte le persecuzioni che lui stava vivendo ma il Signore gli disse sopporta la mia grazia ti basta e vedrai che tu non morirai perché il mio potere il potere del Signore si perfeziona nelle debolezze perché perché il Signore guarisce o fa uscire qualcuno dalla carcere oppure guarisce sì qualcuno fa miracoli perché esiste una debolezza quindi si dà gloria al potere di Dio se c'è una debolezza altrimenti non si manifesterebbe e Paolo dice nel 10 perciò io mi diletto nelle debolezze così che il potere del Signore possa essere su di me perché se io sono perseguitato odiato maledetto invidiato allora Dio sicuramente mi aiuta mi darà trionfi mi darà vittorie gloria Signore la sua gloria sarà manifestata perché io ho delle debolezze ma il Signore gli diceva ti basterà la mia grazia perché perché la grazia raccoglieva in sé l'amore raccoglieva in sé tante virtù ma sicuramente Paolo chiedeva al Signore un corpo di ferro affinché nessuna spina potesse entrare nel suo corpo ma le cose non vanno così la grazia si manifesta tramite le debolezze adesso passiamo al libro di Tito mi sto dilungando un po' ma vi chiedo scusa perché a volte io continuo a parlare a parlare e che parlare del Signore è molto bello e il Signore ci dirà ti basterà la mia grazia quindi non preoccupiamoci per il tempo adesso passiamo al libro di Tito capitolo 2 verso 11 Tito 2 Tito era un apostolo fu discepolo dell'apostolo Paolo era un grande evangelista anche e stava insegnando il Vangelo del Signore dice nell'11 infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini cambiamo la parola perché voi già avete capito e possiamo dire infatti la misericordia l'amore la compassione la benevolenza di Dio è apparsa a tutti gli uomini per essere salvati quindi avete già imparato che cos'è la grazia questa grazia amore misericordia che Dio ha avuto per l'umanità è quello che noi oggi stiamo godendo nel Signore stiamo godendo della presenza del Signore dei Suoi miracoli dei Suoi segnali stiamo acclamando il Signore perché noi abbiamo debolezze nel nostro corpo abbiamo malattie stregonerie maledizioni spiriti malvagi che entrano a possedere il nostro corpo non ci lasciano magari dormire ci turbano la notte come fantasmi che stanno spaventando e stanno facendo ammalare questi demoni a livello del sistema nervoso perciò Dio è pronto per aiutarci liberarci ma noi dobbiamo acclamare e credere in Lui e consegnarci a Lui disporci a Lui seguirlo pregare perché questa è la grazia che Dio ci dà gratuitamente e gratuitamente ci salveremo adesso passiamo ad Efesini capitolo 2 Efesini capitolo 2 che si trova prima di Tito Efesini capitolo 2 dal verso 1 al 10 Efesini 2 verso 1 dice Egli Gesù Cristo ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati certo perché non riuscivano a compiere la legge di Mosè quindi erano morti nel peccato quindi il Signore Gesù Cristo ha vivificato anche voi voi che eravate idolatri che credavate segni zodiacali alla luna alle stelle che credavate nelle potestà dell'aria quindi eravate morti nei falli e nei peccati verso 2 nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe delle potestà dell'aria che è il diavolo dello spirito che al presente opera nei fili della disobbedienza cioè il diavolo opera nei ribelli nei disobbedienti nei coloro che non vogliono seguire il Signore quindi il diavolo incita le persone al peccato 3 fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri anche noi anticamente praticavamo tutte queste cose sgradevoli e malvagie 4 ma Dio che è ricco in misericordia questa è la grazia di Dio la misericordia per il suo gran amore altra grazia misericordia amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui con Gesù Cristo e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù vedete la grazia e la misericordia l'amore la compassione che Dio ebbe con noi sei e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia dice che Lui ci mostrerà ma già lo stiamo vedendo oggi noi vediamo le ricchezze della grazia di Dio perché stiamo vedendo miracoli segnali guarigioni prodigi e tante cose che Dio fa nella nostra vita soprattutto il cambiamento di vita la pace la felicità che Dio ci dà l'allegria la speranza queste sono le ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù noi infatti o voi siete salvati per grazia mediante la fede cioè mediante credere in Gesù Cristo e ciò non viene da voi è il dono di Dio gloria a Dio perché questo è un dono di Dio Dio vuole dare questo dono di credere di aver fiducia in Lui di essere figlio Suo di guadagnare la vita eterna Dio dà questo dono e bisogna chiedere a Dio questo dono bisogna chiedere a Dio grazia che ci aiuti a proseguire questo cammino per compiere i Suoi comandamenti e guadagnare la vita eterna 9 non per opere perché nessuno si glori noi infatti siamo opera sua creata in Gesù Cristo per le buone opere quindi per fare le cose giuste le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse cioè nelle buone opere benedetto il nome del Signore io non so quindi quanti di voi desideriate avere questa grazia di Dio e desideriate godere il resto della vostra vita fatta di benedizioni fatta di ricchezze spirituali fatta di ricchezze che Dio ha per voi mediante la grazia lui vuole che noi godiamo e beneficiamo in noi stessi questa grazia e poi la regaliamo agli altri questa ricchezza dobbiamo avere in noi la ricchezza del Signore essere salvati mediante la grazia quindi ringraziamo Dio e gli diamo l'onore e la gloria e adesso preghiamo Padre Celeste ti ringraziamo Signore per oggi per questo momento grazie Signore per questa opportunità meravigliosa che ci hai dato di leggere la Bibbia di imparare la tua dottrina di imparare le tue parole perché quante volte Signore abbiamo letto la Bibbia e leggiamo i versi ma non capiamo nonostante questo ci sentiamo allegri nel nostro cuore ogni volta che leggiamo la Bibbia perché stiamo pensando che ti stiamo gradendo anche se a volte non riusciamo a capire tutto in pienezza ma tu Signore poco a poco ci darai l'intelligenza toglierai i veli e ci darai intelligenza per capire i tuoi misteri i tuoi cammini la tua parola santa e soprattutto che riusciamo a ricevere il tuo Spirito Santo in noi perché ci dà luce perché lui ci dà guida ci illumina ci ispira affinché noi possiamo comprendere e innamorarci di te ogni giorno sempre di più e andare avanti in questo cammino che tu ci hai tracciato con il tuo aiuto e con la tua guida con l'orientamento del tuo Santo Spirito grazie Padre Celeste oggi Signore conoscendo le debolezze di ogni persona perché tu sai le nostre debolezze le angosce le tristezze le sofferenze tribolazioni malattie tu conosci tutto questo malattie causate dalle stregonerie anche dalle maledizioni dai malocchi dai tormenti perché ci sono tanti spiriti malvagi che stanno tormentando tante persone non le lasciano vivere in pace non le lasciano mangiare dormire anzi stanno soffrendo poi queste persone possedute non hanno capacità di comprendere non hanno pazienza non si rassegnano quindi comincia una battaglia all'interno della famiglia cominciano le discussioni i litigi tra i familiari tra moglie e marito tra i figli figli con i genitori genitori contro figli perché i demoni li incitano a farsi mancare di rispetto gli uni verso gli altri quindi tutti soffrono in tristezza e in desolazione ma tutti ti stanno acclamando Signore ti stanno chiedendo misericordia e tutti desiderano che tu stenda la tua mano e li possa liberare benedire e pulire Signore con la tua misericordia con il tuo amore benedetto Dio che tu possa togliere Signore tutti questi lacci tutte queste catene perché il diavolo ha voluto legare tanti inoltre guarisci dalle malattie incurabili fisiche da tutte quelle malattie Signore stendi la tua mano e liberali Signore concedi opportunità alle persone di credere in te di aver fiducia in te di seguirti di seguire il tuo cammino dai l'opportunità dai libertà nei loro corpi fisici e che possono essere liberati dal tuo spirito libera tutti Signore stendi la tua mano potente e compi miracoli e segnali Signore perché noi stiamo vedendo lo splendore della tua grandezza grazie onnipotente re nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato ti chiediamo tutto questo Signore benedici ognuno di loro Signore ascolta le loro preghiere i loro clamori Signore grazie gloria onore per te da adesso e per sempre Amen benedetto il nome del Signore adesso cantiamo il coro 89 che si intitola la sua gloria copri i cieli su gloria cubriò los cielos e la terra se llenò de su alabanza su gloria cubriò los cielos e la terra se llenò de su alabanza e il resplandor fu come la luce rayos brillanti salì di su mano e il resplandor fu come la luce rayos brillanti salì di su mano su gloria cubriò los cielos y la terra se llenò de su alabanza su gloria cubriò los cielos y la terra se llenò de su alabanza e il resplandor fu come la luce rayos brillanti salì di su mano e il resplandor fu come la luce rayos brillanti salì di su mano che l'onore e la gloria siano per Dio molte grazie che Dio vi benedica grandemente come sempre vi mando tanti abbracci tanti baci che Dio vi benedica tutti vi amo nel Signore grazie 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 a tutti.